Prefetto Frattasi, Bruno. Sì, vicino a dove dobbiamo cominciare. Una cosa la possiamo dire, perché al di là dell'emozione con cui abbiamo raccontato e ascoltato tante testimonianze, al di là della commozione con cui molti di noi hanno attraversato quelle sale con quelle foto, al di là dell'affetto con cui ho rivisto delle persone a cui voglio un sacco di bene, beh, insomma, il succo di tutto è, e tu ne sei testimone, che lo Stato c'è e fa le cose giuste al momento giusto. Sì, io intanto buongiorno a tutti e grazie di questo invito. Io ho già conosciuto questo luogo, perché sono stato, prima di questo incarico, direttore dell'Agenzia Beni Confiscati e conoscevo il dottor Scarpa e la sua bravura, mi era nota. Noi, quando ero all'Agenzia, dicevamo sempre, dicevo sempre, ricordavo sempre, che il riutilizzo di un bene, il recupero di un bene confiscato, la criminalità, è una forma di riscatto del bene, no? Gli si restituisce dignità, una nuova vita. E quindi il filo rosso tra Agenzia Beni Confiscati, riscatto sociale e poi la figura di Diego, è un filo rosso molto forte.